Buongiorno, signore e signore e benvenuti a guardare in questo volo 4351 per il sinistra che ne vogliamo fare il primo posto disponibile per installare la vostra pagina da sotto si salirà uno se vuoi per scherzare la uscita dell'inventenza se la vorremmo rimanere libera l'eccolo è a terra e io qui dobbiamo ricorrere che a stila 1, 2, 3 e 4 sono più questi punti sono ritrovati Ancora una guarda della manettina un po' da sotto un po' Ancora una guarda della manettina si salta un po' e un po' e un po' e un po' e un po' Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.